buona iniziamo la seconda giornata così con un po di on board e c'è veramente un sacco di gente oggi che domenica la cosa che mi emoziona di più è poter fare i scoppiettini qui in parte ai vigili la cosa un po mi rende a disagio perché è strano però dai se andiamo a fare un po di sgommate ho già fatto un po di prove il mattino e oggi dovremmo fare dovrei divertirmi alla grande sono riuscito a capire un po come funziona la pistina giro quasi tutto in seconda marcia alcuni punti limitatori con i punti un po sottocoppia tra la mano viene usato poco adesso tempo ancora un attimo e poi entriamo in pista ora siamo dentro prima seconda marcia si sgomma questo fa scoppiare la gomma quindi mi ha fatto un po rallentare ancora un attimo e scoppiare poi possiamo riprendere va bene a a Grazie a tutti. Buona, finita. Finita la gomma, mi dispiace. Non so se vedete i brandelli di gomma che stanno schizzando su allo pneumatico. Ma ormai è finita la gomma, c'è tutti i pezzi che vanno in giro e l'auto ha smesso di tenere tutto. Accendiamo l'aria calda così il motore si raffredda. Non ci sono anomalie in più, si pia peggio di queste. E possiamo tornare a cambiare le gomme, aggiungere un po' di liquido al motore e entrare di nuovo in pista. Come ti chiami tu? Manuel. Vai Manuel, adesso faccio il video dai, facciamo il video, è genialo. Grande. Facciamo un giro con Manuel che ha fatto una fatica per riuscire a scrivere con me. Davvero un parto. Ho fatto solo un giro, ho usato pochissima gomma. Ho usato pochissima gomma. Ho usato pochissima gomma. ... ... ... ... Ti diverte bellissimo fantastico anche a me ti diverte un sacco Penso sia una droga tipo quando inizio è vero Adesso scivola tanto l'uomo del sacco Cala molto il grip perché scivola Grazie a tutti Ho detto ma la rireggia Cazzo Porca troia Solo una quella lì Perché il tornantone di sinistra si consuma molto quella Ti porto là dai Eh perché se ti scoppi in strada poi devi tornare da casa Eh meglio non farlo scoppiare Oh dio Niente è andata questa Bellissima Come ti è sembrata? Top Voglia Buona voglia Mi fa piacere È un po' stallonato Si è staccata Ah proprio così Stallonato Buona Siamo entrati Facciamo un girettino per raffreddare l'auto Già perché entrando Stando in coda si è scaldato molto il motore Quindi faccio un girettino un po' tranquillo Per far arrivare aria al motore Per far arrivare aria al motore Grazie a tutti. Ora è entrato Emma, facciamo un po' di twinco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.